Parliamo della marcia di avvicinamento a Pescara-Cesena, gara in programma sabato alle 20.45 in Serie C. In attacco Cuppone potrebbe ritrovare la maglia da titolare, non da riferimento centrale del 4-3-3, ma da esterno del tridente, ovvero il ruolo per il quale è stato ingaggiato nell'estate del 2022. In questo caso l'attaccante Salentino andrebbe a completare il tridente con Bergani e probabilmente Cangiano, al momento favorito su Accornero. L'ipotesi non è affatto peregrina, infatti Merola non sta attraversando un momento felice, potrebbe almeno inizialmente restare a guardare. Cuppone avrebbe così la possibilità di rilanciarsi, c'è anche una motivazione tattica. Su quella fascia agisce l'esterno mancino Donnarumma, non un fulmine di guerra sul piano della velocità, laddove invece si fa preferire Cuppone. Scalpita anche Franchini, ex della sfida dopo tre presenze partendo dalla panchina. Per il calciatore arrivato dal Padova potrebbe essere la prima da titolare nel triangolo di centrocampo, completato da Squizzato e dal rientrante Tuniob. A Cesena Simone Franchini ha lasciato un buon ricordo, sebbene abbia indossato la maglia dei bianconeri solo nei primi sei mesi della stagione 2019-2020. Nel Cesena tornano a disposizione Corazza e Cargbo.